Grossi guai per Stefano Bettarini e Clemente Russo La notte delle confessioni dei tradimenti al grande fratello Vip, ha causato gravi conseguenze, sia al pugile Clemente Russo, che all'ex calciatore Stefano Bettarini. Il primo, oltre ad essere stato espulso dal programma, è stato denunciato da Simona Ventura, ex moglie di Bettarini, e verrà chiamato a rispondere di quanto commesso nelle sedi opportune. Inoltre si becca anche un richiamo dal ministro della giustizia Andrea Orlando, visto che, in quanto atleta in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, sono state ritenute poco conformi le espressioni ingiuriose e rivelatrici di misoginia e omofobia. Il calciatore invece, autore dell'ormai famosa lista delle donne conquistate, non è stato espulso dal grande fratello, ma dovrà rispondere in tribunale delle dichiarazioni rilasciate all'interno della casa. Infatti, secondo quanto scritto su Il Messaggero, oltre alla denuncia di Simona Ventura, presentata oggi 4 ottobre a Milano, per Bettarini ne sarebbe già stata presentata una da Sara Varone, ieri a Roma. Quindi, ricapitolando, doppia denuncia per Stefano Bettarini, e espulsione, denuncia e richiamo dal ministero della giustizia per Clemente Russo.